ciao da valentina oggi siamo finalmente direi con paolo pugni consulente di valore ciao paolo come stai buongiorno valentina benissimo molto freddo qui a milano oggi ma una bella giornata immagino anche qui nelle marche devo dire non si sono risparmiati bene senti allora io ti ho visto all'inizio no molto attivo su telegram su linkedin con la tua attività e mi sei piaciuto molto per la spontaneità e ho sentito come dire già un feeling all'inizio e quindi quando è così ok benissimo mi piace andiamo avanti e mi piace anche come utilizzi appunto tutti questi canali ti va intanto di spiegarci la tua attività e poi magari andiamo a parlare un po di linkedin sì allora io fondamentalmente cerco di aiutare le aziende che si rivolgono a me le imprese mi piace dire impresa perché dentro la parola impresa c'è dal piccolo studio magari di avvocati alla piccola media impresa l'impresa un po più grande quindi la piccola media azienda a migliorare il loro valore che poi nel piccolo vuol dire anche migliorare i guadagni ma non con un miglioramento del guadagno e fine a se stesso quindi centrato molto sul breve breve termine che poi alla fine finisce per ammosciarsi nel momento in cui si perde questo slancio ma lavorare proprio sul valore dell'impresa valore dell'azienda valore del brand valore dello studio attraverso soprattutto strategie che riguardano l'area commerciale quindi come capire qual è il valore che io sto dando col mio servizio prodotto ai miei clienti e come andare a raccontarlo questo è un po' è quello che faccio bene e perché hai scelto di utilizzare la comunicazione cross canale quindi hai utilizzato più canali per poi andare a parlare della tua attività allora perché un po' il percorso che sto cercando di fare quello che adesso è un po' di moda che il discorso del funnel cioè cercare di spostare man mano l'attenzione delle persone da un interesse così generico che magari corrisponde a mettere un like o l'equivalente su linkedin fino a arrivare entrare in contatto con me creare questo concetto di comunità questo gruppo di comunità nelle quali le persone possono dialogare tra di loro e dialogare con me quindi all'interno di questo questo percorso che vorrei fare con le persone una tappa abbastanza all'inizio del percorso sono i social media in particolare linkedin visto che abbiamo accennato già questo e poi andando avanti il concetto di telegram è quello di creare un luogo privilegiato anche riservato dove le persone possono discutere delle tematiche sulla vendita sulla vendita di valore incontrarci incontrarci tutti insieme e quindi avere anche la possibilità di conoscersi per nome e cognome cosa che magari su linkedin non è così immediato non è così facile come la scelta del canale e non del gruppo su telegram questo è importante che non abbiamo mai parlato almeno delle interviste in questa rubrica allora io ho sia il canale che il gruppo il canale lo vedo come un'occasione per diffondere su persone che hanno dimostrato un interesse quelli che sono i contenuti che produco in modo particolare i podcast e poi dei contenuti speciali per le persone ripeto io lo vedo come un progressivo dimostrare interesse nei confronti di quello che faccio e quindi un progressiva voglia anche di compromettersi se mi permetti questo termine quando io quando io diffondo i miei contenuti su linkedin se le persone lo vedono magari adesso sfruttando anche qualche novità di linkedin come la possibilità di utilizzare dei documenti come pdf o ppt sono aumentate nel mio caso spaventosamente il numero di visualizzazioni però come se visualizzazioni vuol dire che ti scorre davanti frascorrerti davanti e iniziare una discussione c'è di mezzo il mare c'è di mezzo una vita quindi il fatto che qualcuno mi abbia magari incontrato su linkedin anche soltanto di sfuggita poi magari è stato più attento poi ha deciso perché ha ascoltato una puntata del podcast di interessarsi al punto di volersi iscrivere al canale dove ha in automatico tutte le puntate del podcast e qualche contenuto in più poi magari addirittura voglio entrare in un gruppo specifico di telegram dove si discute di vendita dove si discute di altro io lo vedo proprio come una dichiarazione di di interesse come la costruzione di una relazione che può portare poi in fondo anche a una costruzione di una relazione professionale perché nei conti siamo qui anche per vendere lo diciamo con molta franchezza con molta onestà non truffare che è un'altra cosa ma ci abbiamo tutti il mutuo da pagare quindi bisogna anche fare business come come direbbe qualcuno beh direi che a differenza di molte figure che vedo su linkedin anche di settore settore social intendo tu hai fatto la differenza nel contenuto non lezioso secondo me cioè molti prendono l'articolo sul coaching anche su linkedin su qualsiasi cosa e lo mettono sui vari social però diventa un contenuto fino a se stesso senza quella parte di storia personale tu metti tanto di storia tanto di tua esperienza all'interno dei contenuti perché hai fatto questa scelta tra tutti ringrazio mi fa molto piacere quello che hai detto ma io credo che faccia parte del della mia vita del mio essere così non un po perché sicuramente uno dei miei vizi principali è quello della vanità e quindi raccontare se stessi fa sempre piacere questo bisogna dirlo ma poi perché non si chiama storytelling scusa beh questo è il lato nobile come dire no cioè se lo vuoi vedere così la parte bella del bicchiere allora fare di storytelling poi alla radice ecco prendiamo il concetto di storytelling allora secondo me il criterio è proprio questo le persone si sentono coinvolte quando quando gli racconti quello che stanno vivendo anche loro e io credo che nella vita delle persone una cosa che ci sia sempre siano anche gli successi adesso paradossalmente ma neanche tanto perché poi se conosci l'animo umano ti rendi conto che non è paradossale io ho avuto molti più un aumento di follower un aumento di persone che mi hanno contattato con le quali ho stretto amicizia quando ho raccontato ragazzi ho cercato di organizzare un evento risultato zero è stata una tragedia e ho spiegato perché è quello che ho imparato dall'errore piuttosto che arrivare a dire vai sono bello ragazzi ho fatto la roba davanti alla piscina con sei milioni di persone erano lì che mi osannava come la ferrari affittata infatti perché poi le persone ti riconoscono di più in quello che arriva dal cliente che ti dice no guarda un appuntamento mi spiace non ti posso ricevere piuttosto che quello che incontra persone che li gettano rose o altro quindi ok siamo in chiusura sì siamo in chiusura vorrei solamente una un'opinione proprio veloce una frase che cos'è per te linkedin a cosa serve è il la macchinetta del caffè dell'ufficio è il luogo dove posso parlare di cose professionali in maniera non necessariamente formale incontrare nuove persone bene grazie paolo è stato veramente una bella intervista dove ti possono trovare gli ascoltatori allora telegram chiocciola paolo pugni oppure su linkedin paolo pugni mi trovate mi trovate lì grazie bene grazie paolo e spero di risentirti e di intervistarsi di nuovo ciao buona giornata grazie ciao grazie a tutti